Bene, buonasera. A tutti, buonasera a voi che siete qui e anche a tutti coloro che sono collegati. Grazie di aver accettato il nostro invito. Noi questa sera presentiamo La guerra del silenzio, Pio XII, Nazismo e gli ebrei, che è il libro di Andrea Riccardi. Partecipano alla presentazione la senatrice Liliana Segre, che ringrazio, il professor Agostino Giovagnoli, e il professor Gabriel Forti. Ma prima di entrare nel dibattito che riguarda il libro di Andrea Riccardi, che ringrazio ancora, io sono felice di dare la parola all'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, che prego di salire per un suo saluto introduttivo. Saluto con questa domanda, come si studia, come si comunica, come si scrive, come si legge un periodo di storia. Lo storico dichiara che si propone di comprendere e di condividere la sua comprensione. In modo particolare si esprime dicendo io non voglio giudicare, ma comprendere. Ecco, quello che io mi domando è che cosa significa comprendere. Leggendo questo libro molto documentato, che stasera viene presentato, che è accompagnato da una riflessione che io ritengo molto equilibrata, molto interessante, molto franca. Ecco, io però mi sono domandato cosa significa comprendere. e mi pare che di fronte al dramma di cui si parla, la persona che viene studiato e al contesto che viene illuminato, si capisce che non si tratta comprendere, non vuol dire solo offrire dei documenti, raccogliere dei dati, ricostruire dei profili di persone. Mi pare che comprendere significa anche lo strazio del dramma incomprensibile, della crudeltà incontenibile, dell'enigma terrificante che travolge la ragionevolezza e ogni possibilità di comprensione. Comprendere la storia significa anche restare smarriti e condividere l'angoscia di quella barchetta troppo fragile in balia di una tempesta troppo travolgente, di persone buone, istruite, sapienti, fatte per una vita normale, per giorni operosi e per cause nobili, per un lavoro dedicato a una missione che viene gettata nel vortice incontrollabile di una follia che sconvolge il mondo intero. Comprendere le vicende di Pio XII, di quell'isola vaticana, degli uomini della diplomazia vaticana, significa anche intravedere la diversità e anche la tensione polemica tra le persone, tra i punti di vista, tra intelligenze diverse nell'accumularsi di informazioni con un crescendo tragico, con un contrasto di priorità inconciliabili. Comprendere significa anche interpretare l'angoscia di uomini che si pongono domande insolubili. Che dire di paesi di tradizione cristiana che organizzano l'annientamento di paesi di tradizione cristiana? Che dire a uomini di chiesa che sono posti di fronte agli altri uomini di chiesa? Come valutare quello che può causare una scelta, un intervento, una presa di posizione di fronte alla pazzia furiosa di potenze scatenate? Cosa si può comprendere di quello che talvolta in questa opera e in tante altre occasioni si dice cosa dirà la storia del nostro tacere o del nostro parlare, della nostra pazienza o della nostra irruenza? Comprendere. Comprendere significa anche porre l'interrogativo teologico sulla vicenda della storia e trovare le antiche parole per protestare contro Dio, per invocare Dio, per restare muti e sconcertati di fronte a Dio. C'è un salmo che esprime la tragicità e lo strazio di questo credente che si pone di fronte a Dio come una una protesta incontenibile. Quello che ricorda la distruzione di Gerusalemme, dice il salmista, Dio, perché ci respingi per sempre fumante di collera contro il gregge del tuo pascolo, volgi i tuoi piedi a queste rovine eterne. Il nemico ha devastato tutto nel santuario, rugirono gli avversari nella tua assemblea, issarono le loro bandiere come insegne, come gente che s'apre un varco con la scura nel folte della selva. Con l'ascia e con le mazze frantumavano le tue porte, hanno dato alle fiamme il tuo santuario, hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome, pensavano distruggiamoli tutti. Comprendere. Dunque è un compito arduo, io desidero porgere il mio saluto, la mia gratitudine al lavoro di Riccardi che per tanti anni si è dedicato a questa ricerca. Desidero salutare tutti gli illustri relatori a cominciare dalla senatrice Segre e da tutti voi che siete qui e voglio accingermi ad ascoltare con questa inquietudine che si domanda sì, comprendere ma che cosa significa comprendere. Grazie, grazie Monsignor Delpini, grazie Arcivescovo per questo suo intervento iniziale. Io prima di dare la parola ai nostri relatori volevo sottolineare alcuni aspetti che mi hanno colpito nella lettura del libro di Andrea Riccardi che apre diverse questioni di coscienza e parla in maniera molto netta di una sconfitta del cristianesimo. Monsignor Delpini ha detto giustamente all'inizio del suo intervento che lo storico non è un giudice però lo storico con la sua opera di continua ricerca della verità compie un atto di giustizia perché è nella mancanza di memoria o nella presenza di una memoria manipolata per le esigenze politiche del presente succede spesso anche oggi e proprio in questa mancanza di memoria che le vittime innocenti muoiono una seconda volta. La ricerca la trasparenza il confronto anche di tesi diversi di tesi contrapposte tengono sveglie le coscienze e tengono sveglie soprattutto le coscienze dei più giovani. Ecco dove la storia fa giustizia e restituisce dignità alle vittime. è ancora più significativo che un libro di questo tipo senza tesi preconcette senza l'obbligo di dover difendere nessuno lo scriva un grande storico cattolico fondatore della comunità di Sant'Egidio che è stato insieme alla comunità di Sant'Egidio e ai figli della Shoah la comunità ebraica tra i fondatori del memoriale della Shoah di Milano. e lo ringraziamo ancora per questo. Colpisce nella cronaca di quegli anni nella lettura delle pagine di Andrea che la parola silenzio sia spesso aggiunta dall'autore in corsivo ai tanti documenti inediti di cui è entrato in possesso e che ha potuto leggere come se vi fosse in alcune circostanze la consapevolezza di tanti silenzi al punto di avere persino paura di ammetterli impressiona che all'inizio del libro ci sia un dialogo tra Pio XII e Monsignor Roncalli e Pio XII che dice che cosa si pensa dei miei silenzi sui tedeschi lo dice a Giovanni XXIII lo dice al suo successore allora quali insegnamenti io aggiungo pochissime considerazioni di carattere personale quali insegnamenti di attualità possiamo trarre da questa indagine storica beh sono molti gli insegnamenti di attualità come prima cosa che la trasparenza e l'ammissione di colpe sottovalutazioni ambiguità anche di un certo antisemitismo di matrice cattolica che certamente ci fu la trasparenza però è anche un modo il modo migliore attraverso il quale si può dare merito ai tanti giusti della Chiesa alle tante persone che salvarono migliaia di ebrei e anche all'esercizio della memoria che viene fatto in questa maniera è un modo per dare a tutti il giusto peso riconoscere delle colpe ma anche valorizzare tutta una serie di atteggiamenti coraggiosi però se l'esercizio della memoria e questa è una sottolineatura che fa Riccanti nel suo libro viene fatto quasi in termini forzati e solo difensivi beh allora ovviamente è un esercizio che ha una dimensione piuttosto relativa allora la memoria è giustizia e sottolinea Riccardi nel suo libro che facendo poca memoria ha finito anche per sminuire la portata storica della propria opera umanitaria nel corso del tormentato pontificato di Pio XII il Vaticano sapeva vi spero di citare correttamente il libro di Riccardi almeno dal 1941 quello che stava accadendo agli ebrei ma le cautele diplomatiche il desiderio di essere del Vaticano comprensibile anche un possibile mediatore fra le parti di poter svolgere una ipotetica funzione di pace anche la preoccupazione tra l'altro di non aggravare la condizione dei perseguitati ebrei compresi fecero spesso preferire il silenzio al coraggio dell'azione questa indagine storica è straordinaria perché ci riporta in quei momenti di fronte a dei silenzi di fronte dei dilemmi di fronte a cose che si conoscevano davanti a delle miserie accanto a dei gesti di straordinario coraggio ecco le ragioni di Stato hanno prevalso spesso rispetto alla difesa dei valori umanitari che fa parte poi della missione straordinaria della Chiesa allora quanto sarebbe stato diverso è difficile anzi è del tutto inutile fare la storia con i sei però quanto sarebbe stata diversa la storia se vi fosse stata una condanna più tempestiva o più dura se il 16 ottobre del 43 il Papa avesse fatto qualcosa di più avesse avuto per esempio il coraggio a me colpisce insomma leggendo le pagine di Riccardi colpisce il coraggio del metropolita di Sofia Stefan che salvò gli ebrei di Bulgaria o del metropolita di Plovdiv Cirillo che minacciò di sdraiarsi sui binari della stazione se fosse partito un treno carico di ebrei verso Auschwitz quelle pagine mi hanno colpito in maniera straordinaria allora emerge da questo libro l'incapacità che ebbe il Vaticano in alcune fasi di comprendere l'ampiezza indicibile della tragedia della Shoah e anche delle difficoltà successive nei confronti diciamo della realtà dello stato ebraico accanto alle tante opere di bene straordinarie che ci sono in questo libro che non sono in parte conosciute che è giusto che vengano conosciute quando si fa chiarezza quando si fa indagine storica beh accanto al tante opere di bene ai salvataggi agli aiuti pur nell'ambiguità politiche e nelle distanze allora molto forti con l'ebraismo emerge quella forza sinistra del nazionalismo cattolico che in alcuni paesi dell'est fiancheggiò il nazismo nazionalismo che non è scomparso ma che si ripropone in alcuni paesi dell'est e questo qualche volta in quei paesi dimentichi per esempio della grandissima lezione che rileggendola nelle pagine di Riccardi è ancora più forte e ancora più coraggiosa di quello che sarà poi Giovanni Paolo II che capì intervenne non ebbe alcun dubbio e che poi si scusò con i nostri fratelli maggiori io mi fermo qua grazie comincerei dando la parola a uno storico a Gostino Giovagnoli e poi a un giurista Gabrieo Forti a commento del libro di Andrea Riccardi professore prego grazie io sono rimasto già colpito da quanto è già stato detto fino adesso perché mi sembra molto giusto dire che questo libro si pone il problema di comprendere ciò che è incomprensibile e l'autore ne è ben consapevole perché questo libro parla di Pio XII parla della Santa Sede parla della Chiesa Cattolica ma in realtà ruota tutto intorno alla Shoah anche nei momenti in cui sembra allontanarsi e dunque c'è questa questo incomprensibile di fondo che attraversa tutte le pagine di questo libro un libro che si inserisce in un dibattito amplissimo perché sulla questione di Pio XII di fronte alla Shoah si è scritto tantissimo e questo ha fatto a volte perdere paradossalmente di vista le questioni fondamentali e questo libro devo dire le riprende e le ripresenta alla nostra attenzione anche perché è stato accennato questo libro in qualche modo è il frutto di un lavoro che dura 50 anni perché Andericardi ha cominciato ad affrontare questi temi già negli anni 70 dunque è un libro che ovviamente riflette un enorme lavoro di ricerca di analisi ma anche 50 anni di riflessione su questo tema che lo rendono in qualche modo un libro diverso dagli altri che occupa una posizione diversa io accennerò soltanto a una questione che mi sembra importante e che è ampiamente utilizzata in questo libro anche se gli aspetti di cui parlare sarebbero molti di più e la questione ha a che fare proprio con quella che è stata la interpretazione centrale in una narrazione che è cominciata tanti anni fa con la rappresentazione di un dramma teatrale quella del vicario di Hockwood ma che arriva fino ai nostri giorni perché anche il recente volume di David Kerzer che è uno studioso americano che si è potuto avvalere della documentazione degli archivi vaticani messa a disposizione relativamente in tempi recenti e quindi è un libro anche aggiornato da questo punto di vista ma c'è come una narrazione un filo conduttore che da allora continua ad essere in qualche modo dominante e questa narrazione è appunto incentrata sul silenzio al singolare mentre è molto importante che Andericardi parli dei silenzi al plurale il silenzio di Pio XII come il frutto di una scelta di parte un Papa che è stato più incline a capire le ragioni di una delle parti contendenti la Germania nazista l'Italia fascista e meno invece capace di cogliere gli altri sfortunatamente la parte che avrebbe scelto non era la parte delle vittime non era la parte degli ebrei allora questa rappresentazione è una rappresentazione che ha una sua plausibilità cioè si sceglie si sceglie una parte e dunque non si dice quello che è in contrasto con gli interessi diciamo di questa parte lo faccio naturalmente in termini estremamente schematici c'è un enorme dibattito ma insomma non è il caso adesso ovviamente di entrare in tutti i dettagli ecco io credo che Andericardi invece attraverso questa riflessione durata tanti anni ha messo a fuoco una realtà diversa profondamente diversa anzitutto Andericardi non nega quello che molti apologeti di Pio XII hanno sempre negato non facendogli un buon servizio e cioè il fatto secondo questi apologeti che in realtà Pio XII e i suoi collaboratori non sapevano poi veramente fino in fondo quello che stesse per accadere quello che stava accadendo e dunque si non ha taciuto non ha parlato perché non sapeva ma questa non è vero Riccardi lo documenta ampiamente le informazioni su quanto stava accadendo sono giunte in abbondanza il colloquio di cui parlava prima Ferruccio De Bortoli tra il Papa e Monsignor Roncalli è del 41 quindi le notizie abbastanza presto tutto sommato hanno cominciato da fluire e poi piano piano in termini sempre più massicci si da rendere come dire assolutamente certa questa vicenda di fronte a tutto questo il silenzio o meglio i silenzi e la cosa anche secondo me molto interessante di questo libro è stato accennato anche questo è che i protagonisti di questa vicenda il Papa e i suoi collaboratori parlano essi stessi dei loro silenzi e del problema dei loro silenzi allora questo rovescia molto le cose dunque erano consapevoli non solo hanno vissuto con tormento il loro silenzio e allora ecco una domanda che è importante porsi ma se davvero hanno sofferto essi stessi per un silenzio di fronte a una tragedia così grande allora perché non hanno parlato ecco dentro questa grande vicenda c'è il dramma di coloro che hanno vissuto in questo piccolo mondo che poi il Vaticano spesso come dire un po' sopravvalutato ma è un piccolo mondo soprattutto all'epoca poche persone hanno vissuto però fortemente questo dramma tanto che scrive a un certo punto l'autore in Vaticano a un certo punto c'è un ribollire un ribollire perché si avverte la totale inadeguatezza di fronte alla tragedia alle tragedie della guerra ma allora perché ecco qui credo che sia molto importante ciò che Andericardi mette a fuoco e cioè la scelta dell'imparzialità Pio XII e i suoi collaboratori condividono quasi tutti questa scelta sceglie per l'imparzialità di fronte alla guerra l'imparzialità di fronte ai due schieramenti l'imparzialità che vuol dire non prendere posizione per gli uni o per gli altri dunque non aver scelto una parte sbagliata come ha sostenuto e continuo a sostenere la parte della storiografia ma aver fatto un'altra scelta quella dell'imparzialità forse potremmo dire quasi l'errore opposto un Papa che ha preso troppo poco posizione forse questo sarebbe diciamo la osservazione da avanzare ma allora perché questa imparzialità ecco questa imparzialità e qui Riccardi unisce due registri che è quello della storia della Chiesa e della storia contemporanea perché ci sono ragioni molto antiche di questa imparzialità perché viene da lontano anzitutto viene dalla scelta del suo predecessore Benedetto XV che in realtà aveva fatto la scelta dell'imparzialità ma anche prima perché in realtà c'è una lunga tradizione quella del Papa come padre comuni di tutti i popoli che è una tradizione sessettecentesca e così via e dall'altra però la contemporaneità perché la contemporaneità è quella della guerra di una guerra di tipo nuovo che è la guerra mondiale che è una guerra che per definizione non è mai giusta e dunque se non è possibile più dire chi ha ragione o chi ha torto non c'è guerra giusta e non c'è motivo per cui il Papa prende una posizione per gli uni o per gli altri questo è uno dei motivi naturalmente ce ne sono tanti altri quando prima tu accennavi al nazionalismo cattolico ecco l'imparzialità è anche questo rifiutare e contrastare tutti i rischi del nazionalismo cattolico ma sono veramente tante le ragioni dell'imparzialità quasi si potrebbe dire che era una scelta valida sotto molti punti di vista anche il desiderio di poter conservare uno status che avrebbe permesso forse di mediare e quindi di negoziare ecco questa scelta di fondo riguardo alla guerra è una scelta sotto molti profili indubbiamente comprensibile e per certi versi se posso dire anche oggi vediamo dei motivi per cui oggettivamente può avere senso che il Papa non come dire prenda posizione in senso bellico per una o per l'altra parte pur ovviamente ecco questo va detto con chiarezza imparzialità non vuol dire neutralità e tutto quello che si accennava cioè tutta quella azione di assistenza di accoglienza di ospitalità il salvataggio per esempio nella città di Roma di più di 4.000 ebrei negli istituti ecclesiastici tutto questo c'è stato dunque non era essere neutrali essere imparziali l'imparzialità è più una scelta politica politico-diplomatica però ecco il problema che se perseguita fino in fondo la scelta dell'imparzialità diventa una specie di gabbia una gabbia perché anche le scelte giuste nella vita non sono mai perfette anche una scelta giusta come quella dell'imparzialità non è in grado da sola di risolvere tutti i problemi tanto più quando ci si trova di fronte a qualche cosa di inaudito e questo è il fondo del dramma per cui sapendo che i silenzi sono qualche cosa di inadeguato e tuttavia si come dire come superarli e non si trova il modo e qui certo i motivi per cui si è rimasti dentro questa gabbia sono molto diversi alcuni sono molto nobili e ho già accennato altri meno perché poi è chiaro che quando c'è una via tracciata è anche facile come dire accomodarsi nel Riccardo gli mette a fuoco una figura quella di Monsignor dell'Acqua che era all'epoca minutante il quale scrive spesso lui non so per quale motivo viene considerato un esperto della questione ebraica e allora lui scrive ma questi ebrei stanno esagerando e di conseguenza non bisogna fare questo non bisogna fare quest'altro bisogna aspettare tanto è inutile protestare il che non è vero perché ovviamente con la Germania era inutile protestare ma con gli altri paesi qualche cosa si poteva fare e infatti si è fatto e così via ma allora perché e qui è interessante dell'Acqua non era un filofascista dell'Acqua è stata una figura vicina a Montini era un Calli nel dopoguerra è stata una figura che ha dato un ruolo ha avuto un ruolo abbastanza importante nell'affermazione della democrazia in Italia nei primi anni del dopoguerra quindi non è vero questa scelta di parte è che gli esseri umani sono diversi e che ognuno reagisce in modo diverso e qui c'è uno straordinario spaccato io credo che emerge dal libro di Andrea Riccardi perché per altro verso ci sono altre figure come quella di padre Tacchi Venturi molto vicino a Mussolini filofascista che però di fronte alla tragedia degli ebrei ha un sussulto e insiste perché si faccia qualcosa o il generale Gesuiti Ledo Koski all'epoca era un conservatore un anticomunista ma c'è una reazione dice Andrea Riccardi una reazione normale di uomini di fronte a tanta disumanità non tutti hanno avuto questa reazione normale questo lo sappiamo non è vero solo nella chiesa è vero anche fuori c'è una grande letteratura su questo sui motivi per cui l'uno ha solidarizzato e magari ha rischiato la vita per salvarla a un ebreo e il vicino di casa invece lo ha tradito perché qui c'è l'insondabilità dell'animo umano che resta sempre come dire una chiave fondamentale per capire appunto quello che è accaduto al di là poi delle grandi scelte politiche diplomatiche c'è tutto questo questo ribollire si fa strada ci sono dei tentativi alcuni infelici ci sono tentativi di mediazione di aprire persino un discorso con la Germania nazista con i suoi rappresentanti ma è come se in qualche modo quella gabbia restasse una gabbia che non si riesce a superare e i motivi per cui non ci si riesce sono tanti sono i motivi della guerra sono i motivi della diplomazia sono i motivi insomma sono sono tanti ma qui vado a concludere c'è una questione che Riccardi pone in modo molto interessante che riguarda il dopo perché la guerra si sa ha messo ha creato delle difficoltà insormontabili all'azione della Santa Sede la quale ha persino provato con più dodicesimo ad appoggiare un complotto contro per uccidere Hitler non si era mai visto un papa che come dire prende contatto con gli inglesi per favorire quei tedeschi quelli generali ufficiali tedeschi che volevano uccidere Hitler dunque non si può dire che più dodicesimo non sentisse con forza il problema la sua vicinanza agli Stati Uniti mostra in modo evidente che la sofferenza per il suo silenzio tant'è vero appunto come abbiamo visto che lui lo chiede cosa si dice insomma chiede un giudizio su di sé e su questa scelta ma va bene la guerra la guerra è terribile questa guerra è stata terribile la seconda guerra mondiale è stata qualcosa di ma dopo dopo non si sarebbe potuto dire apertamente la persecuzione che c'era stata nei confronti degli ebay non si sarebbe potuto anche qui Riccardi è molto misurato è uno storico che appunto non fa storia giustiziera e quindi va capito il contesto sappiamo che il libro di Primo Levi è stato rifiutato da Einaudi nel 1947 c'era un clima che non aveva voglia di sentire quello che era successo e tutto questo è comprensibile il contesto si deve capire però però c'è anche altro c'è quel germe diciamo così quel tarlo della gli ebrei sono esagerati no? e giustamente Riccardi osserva ma qui il problema non è che erano esagerati gli ebrei era esagerato quello che stava avvenendo loro era una grande esagerazione e si sarebbe dovuto fare quello che di solito noi non siamo capaci di fare cioè uscire fuori dai nostri criteri abituali di giudizio per essere adeguati all'enormità di quello che stava accadendo e questi criteri di giudizio abituali non sono stati neanche superati dopo dopo quando cioè le circostanze terribili e straordinarie della guerra che impedivano tante cose non c'erano più e qui si apre un capitolo diverso un capitolo anch'esso doloroso per certi aspetti perché quella domanda sul perché dei silenzi diventa per certi aspetti ancora più drammatica se pensiamo anche al dopo insomma al peso di quell'enorme realtà dell'antisemitismo che non è certo scomparsa con la con la fine della seconda guerra mondiale grazie grazie professor Giovagnoli professor Forti a lei è stato detto già molto forse quasi tutto ovviamente da giurista e non da storico non potevo che essere attirato da un aspetto conclusivo del libro di Riccardi che è stato richiamato da molti Riccardi dice uno storico non è un giudice un'indagine storica non è una inchiesta giudiziaria ma come diceva il direttore dei Bortoli in realtà lo storico usando il linguaggio questo lo uso io del processo penale è come se fosse persona informata sui fatti potenziale testimone o testimone e quindi sottopone con grande equilibrio con grande lucidità un mare di fatti veramente una miniera di notizie di informazioni su cui ognuno poi può formare il proprio giudizio che non è un giudizio processuale un giudizio appunto penale ma un giudizio anche morale ed è questo l'aspetto che chi ha una prospettiva normativa come giurista come chi non è uno storico tende a selezionare cioè quali sono le norme che hanno guidato il comportamento delle persone che sono descritte in questo libro sì perché io leggo questa espressione silenzi come se la vicenda di Pio XII in realtà fosse incastonata all'interno di una serie di cerchi concentrici i cui come dire la sfera più esterna è rappresentata direi dal mondo ma innanzitutto dal mondo cattolico che si restringe in un mondo di figure ecclesiastiche anche periferiche c'è una particolare attenzione lo ricordava sempre il direttore De Bortoli all'Europa orientale Bulgaria Croazia Polonia e quindi anche alle figure ecclesiastiche che operano nunzi apostolici metropoliti poi c'è un cerchio ancora più concentrico che è quello delle figure della Santa Sede e poi si arriva a Pio XII è come se la figura di Pio XII venisse stagliata dal confronto con questo mondo che lo circonda sia nel senso che questo mondo lo può avere influenzato sia nel senso che si comprende anche il modo di ragionare di Pio XII da questo mondo allora nella prospettiva normativa c'è da chiedersi quali sono appunto le norme e intendo dire non solo certo fondamentalmente quelle giuridiche quelle morali che hanno governato queste persone e che cosa i fatti con cui entravano in contatto ha determinato che essi a volte si trovassero a non applicare queste norme in cui credevano e qui c'è un passo che per il giurista è di straordinario interesse nel libro di Riccardi quando dice che cosa fa sì che dalla informazione non si passi alla coscienza che poi governa le decisioni che cosa interrompe questo questo canale di comunicazione fra la consapevolezza e la coscienza è quella che ad esempio i filosofi morali chiamano la cosiddetta capacità di cogliere la salienza morale cioè di cogliere in una situazione ciò che è veramente essenziale e che coinvolge la propria decisione da questo punto di vista la vicenda che viene descritta nel libro come tutte le vicende storiche che sono uniche e irripetibili ha degli aspetti ripetibili quando si fa memoria spesso anche in questi giorni ne sentiamo parlare a proposito della guerra ma sì non si possono fare paralleli cosa c'entra la resistenza italiana con la resistenza del popolo ucraino sono cose diverse ma è chiaro ogni evento è unico e irripetibile quello che conta è identificare gli aspetti essenziali che sono quelli irripetibili ed è quella la memoria che maggiormente interessa faccio degli esempi c'è un libro di un di un studioso francese che si intitola sarei stato carnefice o vittima in cui si pone il problema se vivendo in quell'epoca si sarebbe trovato dalla parte dei carnefici o delle vittime è un po' quello che dice anche Bauman in questo libro che forse è uno dei migliori di Simon Bauman modernità olocausto quando dice la rivelazione più inquietante non è tanto che noi avremmo potuto essere vittime ma che avremmo potuto essere carnefici o quantomeno testimoni muti e indifferenti di quei carnefici e a proposito di questo scollegamento di questo cortocircuito fra la norma morale e la sua come dire assunzione come coscienza come decisione è stato oggi ricordato l'elemento inquietante che lo dice bene Riccardi praticamente tutti i carnefici erano battezzati e alcuni frequentavano anche la chiesa che cosa ha fatto sì che queste persone mettessero da parte la loro fede cosiddetta fede e dall'altra mettessero le cose atroci si ricorda questa figura straordinaria di Franz Jägerstetter un contadino austriaco molto credente ne ha parlato Zucconi in un libro che si intitola O Cristo Hitler che sulla base della propria consapevolezza di cristiano di cattolico si rifiuta ogni complicità nei confronti del regime e rifiuta anche di prestare il servizio militare e viene ghigliottinato questo è un esempio estremo ma al di là dei carnefici quello che come ricordava il professor Giovagnoli quello che interessa è anche come hanno come dire gestito il rapporto fra le loro convinzioni e la realtà che si stava prospettando al loro cospetto tutte queste figure che appunto appartengono ai cerchi concentrici entro cui si colloca la posizione di Pio XII di fronte a questa enormità questa esagerazione che si stava manifestando e che perveniva anche alla Santa Sedia attraverso innumerevoli fonti pensiamo a Jan Karsky questo polacco che andò addirittura da Roosevelt a rivelare che cosa aveva visto pensiamo ai protocolli di Auschwitz pensiamo anche a quella Kurt Gerstein un colonnello dell'SS che cominciava già nel 41 a trasmettere queste informazioni una enormità che ha diciamo anche dopo la guerra lo ricordava il professor Giovagnoli non è stata veramente compresa ricordava il Monsignor del Pini comprendere è stata veramente compresa questa enormità questa esagerazione se ne tratta quella conclusione che a un certo punto come riferisce Riccardi Jules Isaac dice il bagliore dei forni crematori continua a illuminare ogni mio pensiero come dire la intensità di quella esperienza non può lasciare intatti senza scomodare Adorno che diceva che non si poteva più fare poesia dopo Auschwitz sembra che tutto sia passato che non si sia voluto trarre ogni conseguenza e qui vengo a quella figura che già ricordava il professor Giovagnoli Monsignor Dell'Acqua nella prospettiva appunto del giurista o di chi si occupa di norme e di come esse vengono applicate nella realtà delle proprie decisioni la propria coscienza Dell'Acqua è una figura estremamente emblematica nel libro si dice una cosa importante che io ho trovato estremamente interessante si dice persona di poca cultura ma priva di inquietudine e qui il termine inquietudine è stato evocato anche oggi da Monsignor Del Pini io lo ricordo bene declinato nel discorso che fece Monsignor Del Pini in occasione del centenario della fondazione ista cattolica dicendo che l'inquietudine è un connotato del cristiano l'inquietudine è quello che non ti fa accettare necessariamente l'esistente che non ti fa entrare in quella che Riccardi a un certo punto chiama la penombra in cui si finge di non cogliere veramente l'informazione che ti sta arrivando perché questo sarebbe troppo destabilizzante non si regge l'inquietudine di questa rivelazione ora dell'acqua diceva una figura emblematica dal punto di vista comportamentale anche io mi astengo dai giudizi nei confronti di chiunque ma esamino e cerco anche di cogliere quello che può essere interessante proprio per quella memoria che non sia memoria retorica ma memoria viva che serve all'oggi dell'acqua ricordava il sorgio Vagnoli minimizza mosso da un pregiudizio antigiudaico del mondo da cui proviene probabilmente e dice appunto gli ebrei esagerano prima tecnica di allontanamento poi dice beh queste informazioni sono strumentalizzate sono utilizzate per degli scopi e terzo sempre nel libro di Riccardi si ricorda dice dobbiamo scegliere il male minore la condanna esplicita dello sterminio esporrebbe la Santa Sede a conseguenze più gravi incombe lo spettro della deportazione del Papa come avvenne sotto Napoleone Bonaparte e fra l'altro Pio XII era rimasto molto impressionato da quello che era successo in Olanda ricorda Riccardi quando l'episcopato aveva preso posizione molto netta contro il nazismo e questo sembrava avere provocato l'effetto contrario cioè aveva inasprito le deportazioni in Olanda quindi si dice nel libro Pio XII era molto colpito da questo aspetto ora in dell'acqua perché è un caso emblematico perché sono in atto quelle tecniche che adesso vengono mostro studiate dalle scienze cognitive che si chiamano le euristiche le scorciatoie cognitive attraverso le quali noi spesso abbiamo bisogno di semplificare la realtà per deciderla ma semplificandola necessariamente scotomizziamo mettiamo da parte un aspetto della realtà una tecnica tipica degli esseri umani è quello di vedere solo le cose che confermano già ciò che loro credono di normalizzare anche le cose più insolite il che porta a non vedere negli occhi la medusa cioè non vedere nella sua reale sostanza il male la potenza del negativo in una recensione sul Corriere recente di Canfora a un libro su Machiavelli si dice Machiavelli molto criticato però riusciva a vedere la potenza del negativo sapeva vedere il male nella sua profondità non distoglieva lo sguardo e qui ahimè tutto quello che diciamo noi leggiamo in questa esperienza vale anche per l'oggi perché paradossalmente anche il termine guerra è una forma di distrazione perché il termine guerra non ci permette di localizzare effettivamente dove sta il male durante il battage giornalistico che ha seguito l'invasione dell'Ucraina molto più di quanto sia avvenuto nelle istituzioni c'è stata una comunicazione da parte dei media anche nei talk show più qualificati con grandi soloni della geopolitica in cui si riferivano gli episodi spaventosi bombardamenti di ospedali distruzione di infrastrutture vitali alle persone si diceva sì questa è la guerra ecco con questa frase questa è la guerra tutto viene circondato da una sorta di alone di indifferenza perché la guerra vabbè la guerra la guerra la guerra però ci sono delle responsabilità ci sono delle figure che se ne rendono responsabili e di quelle occorre innanzitutto occuparsi ecco da questo punto di vista il libro di Riccardi è una dicevo prima è una miniera straordinaria di riflessioni e di informazioni che diciamo vanno lette anche alla luce di quello che è la nostra contemporaneità specialmente alla luce di un avanzamento che si riteneva di avere conseguito in termini di interiorizzazione di resa comune di un patrimonio di riconoscimento dell'agnità della persona e dei diritti dei diritti ecco nel lessico che ha accompagnato non tanto ripeto nelle istituzioni quanto nella comunicazione corrente le vicende ucraine sia quasi la sensazione che la storia non abbia progredito da quel punto di vista da giuristiche abbiamo sempre coltivato tutta una serie di atti che hanno riconosciuto i diritti dell'uomo già quello che è uscito dal processo di Nuremberg ma la carta dei diritti dell'uomo la convenzione dei diritti dell'uomo la carta delle Nazioni Unite si pensava che la coscienza delle collettività specialmente di quelle che si sono riconosciuti in questi valori fosse cambiata invece il linguaggio che sentiamo anche ai giorni nostri sembra il linguaggio che fa ancora uso delle categorie della potenza che potevano valere all'inizio del Novecento ma che adesso ritenevamo fossero stati superati quindi ne nasce anche un interrogativo storico la storia progredisce o va per corsi e ricorsi alla Vico stiamo tornando indietro da questo punto di vista un'ultima cosa vorrei dire per non sottrarre tempo agli illustri relatori che mi seguiranno innanzitutto alla senatrice Segre e all'autore che ha sempre l'ultima parola vorrei sottolineare quello che leggendo il libro di Riccardi mi è venuto in mente forse tutti lo riconoscono e lo conoscono dai tempi di scuola se non da frequentazioni successive forse ricorderete il colloquio fra il cardinale Federico e Don Abbondio quando il cardinale Federico convoca Don Abbondio chiedendone le ragioni del suo comportamento il cardinale Federico a un certo punto dice certo non vi sarà domandato un giorno se avviate saputo far stare a doveri potenti che a questo non vi fu dato né missione né modo ma vi sarà ben domandato se avrete adoperati i mezzi che erano in vostra mano per far ciò che era prescritto anche quando avessero la temerità di proibirvelo ecco questo è un interrogativo che alla fine del libro uno si pone la grande il grande dualismo Weberiano fra l'etica della convinzione dei principi da una parte e l'etica invece della responsabilità è una dialetica che viene a giocarsi costantemente in questo libro nel senso che quando Pio XII si poneva il problema che le sue dichiarazioni potessero aggravare la posizione la posizione degli ebrei o comunque dei perseguitati si faceva guidare da questa etica della responsabilità a fronte di un'etica della convinzione un'etica dei principi che avrebbe suggerito appunto come il metropolita di Plovdiv di sdraiarsi sui binari e impedire che partissero i treni per Auschwitz ecco però questa che come dire Weber identifica come una sorta di distinzione assiale categoriale in realtà ha una una sticella che si sposta a seconda delle circostanze della cultura del momento e quindi uno potrebbe chiedersi ed è una domanda che ovviamente non sono in grado di gestire a cui non sono in grado di rispondere quanto nel comportamento passato presente e futuro della Santa Sede del Pontefice debba pesare l'etica della responsabilità che come diceva Weber è un'etica che deve governare il politico e ovvero l'etica della convinzione dei principi che come diceva Weber è estranea alla politica non siamo più nell'ambito politico e c'è un'ultima cosa che vorrei dire di questo profilo Riccardi ricorda una dichiarazione di Pio XII in cui dice se io avessi preso posizione esplicita avrei potuto presentarmi come giusto e qui si sottolinea il rischio che a volte l'etica della convinzione dei principi nasconde cioè quello del narcisismo cioè quello di sentirsi a posto e di affermare se stessi e non rimboccarsi le mani che sporcarsi le mani per cercare di salvare il più possibile coloro che si trovano in situazioni molto concrete questo è un altro spunto che la riflessione storica di Riccardi suscita e che come tutti i lavori importanti non lascia il lettore come era prima come diceva Kafka e come lascia che rompe il ghiaccio dentro di noi e solo i libri che rompono il ghiaccio dentro di noi meritano di essere letti grazie 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 professor Forti io prima di passare la parola alla senatrice Liliana Sega che ringrazio per la sua presenza con una certa emozione leggo alcune righe del libro di Andrea Riccardi nella commissione di soccorsi per fare un esempio esiste un fascicolo intestato ad Alberto e Liliana Sega Oscar Foligno parente dei Sega internato a Zurigo si rivolge all'annunziatura apostolica di Berna perché inoltre una richiesta di notizie ai parenti credendo che siano a Caterinstad in Slovacchia tranquillizzatemi scrive Foligno vostro stato di salute indicando se possibile invio pacchi la croce rossa italiana rifiuta di inoltrare il messaggio perché riguarda gli ebrei neanche le autorità italiane della Repubblica sociale collaborano a individuare il luogo di detenzione del resto i Sega non erano in Slovacchia due mesi dopo giunge da Roma all'annunziatura di Berlino un telegramma di Montini in cui domanda notizie della tra virgolette giovinetta Liliana Segre che si troverebbe nell'agre di Greenswald in Pomerania che è risultato poi non vero l'annunziatura si scontra con il rifiuto tedesco di trattare le questioni dei non ariani Foligno invia pacchi di viveri e un altro toccante messaggio pensavi con tanto affetto tranquillizzatemi il vostro stato di salute indicando se possibile invio pacchi abbiate fede vi abbraccio Liliana ma quando ho affrontato diciamo questa parola il libro c'erano delle cose che già conoscevo e tante altre che non conoscevo c'è una cosa in queste storie di di Eugenio Pacelli che la mia veneranda età fa sì che io sia tra le pochissime ancora in vita che hanno conosciuto direttamente il Papa e in un'occasione in cui io non ero questa vecchietta di oggi ero oggi sono una signora molto vecchia distinta non sono non sono una volgare educata rieducata attenta se stessa agli altri senatrice ma non sono sempre stata così io sono stata un invisibile sono stata una una disperata sono stata una sola una solissima senza bisogno di esagerare perché le cose erano quelle incredibili di cui in fondo nessuno di quelli superstiti all'incredibile ha mai raccontato fino in fondo io sono la prima a dire questa perché ho sentito me stessa e ho sentito altri sopravvissuti come me nessuno ha mai trovato le parole per dire questa esagerazione tra virgolette perché non non ci sono ma quando io sono stranamente sopravvissuta e sono tornata a Milano ho avuto una specie di processione di incontri dei miei parenti quelli che ho ritrovato che o erano stati accolti dagli svizzeri e si erano salvati a Ginevra a Lusanna o come i miei nonni materni e uno dei loro figli si erano salvati a Roma chi in un convento di suore poverissime che hanno diviso il loro pasto alla sera con famiglie intere di ebrei che passavano la notte lì e mio zio fratello di questo Oscar che era in Svizzera fratello di mia mamma l'avvocato Dario Agostino Foligno avvocato della Sacra Rotta che si era battezzato nel 33 e dopo aver letto De Civitate Dei di Agostino di St. Agostino era rimasto molto colpito si era battezzato come Dario Agostino Foligno e c'è un altro libro scritto molti anni fa su Pio XII che in una ricerca del CEDEC che mi è stato chiesto ma questo Dario Foligno che è stato salvato dal collegio militare quando già erano stati portati via gli ebrei o spediti in Germania o comunque ricercati affannosamente lui che era stato preso nella rettata del 16 ottobre per le sue conoscenze in Vaticano fu l'unica famiglia completa marito moglie e tre figli di cui una bambina in fasce furono poi nascosti in Vaticano questo mio zio venne a vedermi come una betta rara come infatti ero con i miei 15 anni 14 anni che stavo compiendo in quei giorni e trovando questo essere selvaggio questa ragazza viva per caso con tutte le esagerazioni tra virgolette che aveva visto e da cui si era miracolosamente salvata cercava 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 si illudeva sperava di trovare notizie il suo padre e mi disse mio zio andiamo ti faccio avere un'udienza privata col papa il l'influenza del papa la sua possibilità enorme e io non sapevo niente la storia di Pio XII mi era completamente ignota l'ho saputa l'ho letta l'ho studiata l'ho sofferta poi ma al momento non sapevo assolutamente niente e andai con i miei zii a Roma andai a Roma e fumo ricevuti tutta questa famigliola in udienza privata dal papa io ebbi un'impressione enorme sia di tutto quello che era allora andare in udienza privata dal papa tutti cardinale tutto questo vaticano straordinario meraviglioso e poi arriva questa persona straordinaria ci furono poi anni seguenti in cui cercai di ricordarmi tutti i dettagli di questo incontro molto particolare di questo incontro in cui io non ero in grado di capire fino in fondo mia testa funzionava in un modo diverso ma colpitissima dallo sguardo del papa ci furono poi delle visite alle mostre d'arte a un livello di studi diverso che feci più tardi mi portarono a guardare i quadri di Fontana con quei tagli e pensai immediatamente alla dichiarazione che fece Fontana quando gli chiesero perché dopo aver fatto il figurativo questo quello aveva fatto i tagli e lui aveva risposto per vedere al di là della tela magari era un affare che gli conveniva ma queste dopo sono illazioni che si fanno in un secondo tempo magari era invece così gli occhi di Pacelli quando ho visto i tagli di Fontana e ogni volta che ho ripensato a quell'incontro gli occhi del papa erano occhi straordinari erano occhi che vedendo al di là della realtà che avevano intorno c'era tutto in quegli occhi c'era un'inquietudine c'era una una sofferenza interiore non immaginavo un sorriso dal volto di Pacelli non me lo immaginavo un bambino che gioca non me lo immaginavo un giovane uomo era un personaggio assolutamente particolare di cui poi io seguì nel resto della sua vita momenti terribili non posso non ricordare quando si vide che il medico suo scelto da lui Galeazzi Lisi aveva venduto la sua agonia che si vide in televisione le foto io me lo ricordo forse sbaglio mi sembra la televisione sono state le foto cioè un personaggio talmente tormentato già solo incontrarlo agli occhi di una ragazzina sciocca che aveva visto le esagerazioni da non dimenticarlo mai più e mi ricordo che io gli dissi guardi io cerco mio papà mi aiuti in questo perché io l'ho lasciato là ad Auschwitz e non ne so più nulla di lui e lui chiamò segretari personaggi tutti altolocati tutti vestiti in modo eccezionale presero nota ma io non seppi mai più nulla di mio papà se non andando anni dopo al CEDEC quando ebbi la forza per farlo molti molti anni dopo perché per anni io lo cercai ovviamente in vano perché le esagerazioni avevano fatto sì che sei milioni di ebrei colpevoli di essere nati erano stati nel frattempo sterminati e fra questi mio nonno mia nonna e mio papà e quell'incontro col papa e poi tutto quello che lesti di lui dei suoi silenzi mi fecero molto pensare a quel nostro incontro in cui la sensazione di un uomo tormentato mi ha accompagnato sempre quando ho sentito parlare del papa quando ho letto il vicario quando ho letto altri libri su di lui commenti facciamolo santo no non è vero un uomo tormentatissimo in cui forse solo la scultura di Messina gli ha dato quella fotografia che avevo io nella mia testa ma non essendo un artista non avrei saputo fare un uomo assolutamente tormentato e c'è una fotografia di Pio XII al bombardamento di Roma la sua fotografia splendida una delle fotografie più belle che non so se l'ha fatta un Robert Kappa della situazione o l'ha fatto un qualunque fotografo il papa ieratico con le braccia aperte che benedice il quartiere di Roma che ha avuto il bombardamento e io mi ricordo quando ho visto quella fotografia ho detto ma con le braccia aperte davanti alla locomotiva del 16 ottobre giorni dopo il 16 ottobre non avrebbe fermato il treno non avrebbe fatto un gesto che sarebbe stato indimenticabile per tutto il suo papato e per gli altri che hanno che hanno fatto il suo stesso non dico cammino ma al soglio pontificio non sarebbe stato un papa santo indimenticabile umano meraviglioso e non avrebbe fatto pace con se stesso e non sarebbe stato un urlo davanti all'oppressore invece del silenzio io anche preferisco il silenzio davanti a certi orrori davanti a certi insulti che ricevo ancora per la colpa di essere nata scelgo il silenzio ma poi mi viene consigliato di cambiare atteggiamento di denunciare chi mi augura la morte in un inceneritore o chi dice di me cose spaventose un maiale con la cotenna che neanche Hitler te l'ha tolta forse il covid chi mi augura la morte e io dico pazienza ho 92 anni non insistete così tanto ci vorrà poco tempo ancora ma mi consigliano basta non stare più zitta segna denuncia fallo venire in tribunale questo che ha coraggio di dirti queste cose non tacere fai una scelta e io ho accettato questo consiglio che mi è venuto molto dall'alto e ho denunciato e sto denunciando e nei 30 anni in cui ho fatto da testimone dell'esagerazione dell'orrore di quello che avevo visto fino a quello che ho trovato fino al punto in cui ho trovato le parole per dirlo e non di più ho sempre raccomandato ai ragazzi fate la scelta siate in pace con voi stessi e la vostra coscienza fate la scelta ogni minuto della vostra vita è una scelta e io credo che anche il Papa dovesse fare la scelta anche se ho visto questo uomo indimenticabile straordinario ieri attico con occhi che cercavano di vedere al di là forse non ci sono riusciti fino in fondo perché il suo tormento era visibile e leggendo ricostruzioni di quegli anni drammatici leggendo documenti che questo libro molto interessante porta non potevo togliermi da quella giornata in cui lui mi disse alzati che eravamo stati tutti obbligati a inginocchiarci davanti a te mi devo inginocchiare io grazie 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 Liliana Andrea Riccardi l'autore grazie io innanzitutto devo ringraziare voi tutti che siete qui quelli che sono collegati quelli che hanno organizzato questa presentazione e quelli che sono intervenuti in maniera molto diversa ma arricchendo anche la mia prospettiva ponendo dei problemi per cui viene voglia anche di riscrivere certe cose in maniera problematica la mia prospettiva Monsignor Delpini l'ha colta io stesso l'ho dichiarata e lui se l'è chiesta cosa vuol dire comprendere le semplificazioni vanno di moda il campo comunitativo il mondo dei social favorisce le semplificazioni ma non è di oggi le semplificazioni ci servono per rassicurarci della complessità e io ringrazio Liliana Segre per le sue parole per la sua testimonianza per la sua lettura ma proprio ci restituisce questa complessità anche davanti alla figura di Pio XII l'impressione ma anche la richiesta di parlare di scendere la complessità non è di moda non è di moda siamo nel tempo dei terribili semplificatori ma non oggi è un tempo che dura quando abbiamo definito il Pio XII il Papa di Hitler siamo stati lo ricordava Agostino Giovagnoli che ringrazio per le sue parole sono 50 anni che studiamo non insieme ma intrecciati parallelamente in fondo temi che rimandano l'uno all'altro seppur in maniera differente ebbene le semplificazioni il Papa di Hitler ma che Papa di Hitler io in questo libro mi sono permesso di fare una piccola notazione abbiamo avuto tempi di marxismo imperante in cui si guardavano solo le strutture economiche una volta vediamo dove partirono i soldi del Vaticano appena scoppiò la guerra la Santa Sede decise di trasferire l'oro che aveva e un po' di soldi che aveva dall'Inghilterra agli Stati Uniti e il Presidente Roosevelt favorì tutto questo e l'oro Vaticano fu trasferito lì più Papa di Roosevelt che Papa di Hitler dice a Cardinal Tisseran lei lo sa da che parte sto io ma non posso dirlo non posso dirlo perché ma prima di tutto per l'altissimo senso di responsabilità verso la Chiesa Cattolica perché qui noi non dobbiamo ragionare ai tempi di oggi lei ha detto la Chiesa era una barchetta sono contento perché il Vaticano era una barchetta erano 50 uomini maschi al massimo c'era Madre Pascalina che aveva un po' di voce in capitolo ma 50 uomini maschi chiusi tra le mura vaticane che guardavano il mondo e ricevevano spezzoni di informazione era una barchetta la fragilità del Vaticano di allora è così lontana dalla potenza umana mediatica di Giovanni Paolo II dal fatto che ormai si pubblica un libro di indiscrezione immediatamente la stampa mondiale ne parla e il Vaticano era in un angolo era in un angolo e questa è la realtà è la realtà di questa barchetta vaticana e di questo Papa che sente la responsabilità verso i cattolici diciamoci la verità perché che la Chiesa cattolica sentisse la responsabilità verso gli altri non stava scritto non stava scritto da nessuna parte si chiamavano gli interessi cattolici ma qui c'è il primo silenzio che riguarda i cattolici quando Pio XII Ferruccio giustamente lo notava il direttore del Bortoli quando Pio XII dice a Roncalli cosa si dice dei miei silenzi cosa pensa il pubblico dei miei silenzi sui tedeschi secondo me non si riferiva agli ebrei si riferiva ai polacchi perché lì è il primo suo dramma e lì è il primo silenzio popolo cattolico sempre fidelis antemurale della cattolicità e tutte queste belle cose qui invaso distrutto sottoposto a un progetto di schiavizzazione e di sterminio i vescovi colpiti in fondo la Santa Sede la Santa Sede tenta di soccorrere i polacchi ITER non glielo permette non solo ma la cancelleria non riceve nessuna richiesta della Santa Sede sulla Polonia il Papa dice qualcosa ma molto moderatamente in un'udienza i polacchi a Roma dice la Polonia vuole vivere la radio Vaticana trasmette qualche notizia ma non dice poi tanto e qui ci sono queste figure la signora Frassati la Gavroska moglie di un diplomatico polacco che fa avanti e dietro in Polonia va avanti e dietro nella Polonia distrutta con uno spirito avventura un po' strano perché io l'ho conosciuta la signora Frassati abitava a Trastevere insomma era più da andare a Capri che andare nella Polonia distrutta ma lei si fa carico di questa missione e tanti altri personaggi i quali nel rapporto con la diplomazia Vaticana trovano 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 difficoltà perché la diplomazia Vaticana modera perché la diplomazia e qui quando Liliana parlava dell'incontro di una ragazza di 15 anni con Pio XII mi è venuto in mente quello che scrive la Gavroska quando dice a Pio XII Santità i cattolici polacchi si sentono traditi e lui abbassa la testa e dice la giustizia non è di questo mondo cioè questo Papa che si sente accusato e qui c'è un oiato tra Pio XII io non ho mai sentito pronunciare il nome di Pio XII se non proprio in occasione da Giovanni Paolo II un Papa impopolare in Polonia anche perché la propaganda nazista lo descriveva come filo nazista ecco ma questo è un piccolo esempio e ce ne sono tanti e poi con il passare degli anni e poi l'altro problema come Papa della Chiesa Cattolica è brutale dirlo si pone il problema e se vincono loro e se vincono i nazisti noi cosa dobbiamo fare questo dura almeno fino al 43 e no e questo è il realismo e va detto è una realtà anche però avendo la consapevolezza documentata che la vittoria nazista sarebbe stata la fine per il cristianesimo in Europa questo lo aveva abbastanza chiaro però Ferruccio De Bortoli ha detto incapacità di comprendere l'ampiezza del dramma beh in alcune parti del mondo cattolico ci fu una fascinazione del mostro cioè il nazional cattolicesimo quella che tu chiamavi la forza sinistra del nazionalismo cattolico che non è finita perché è un'idra che risorge la fascinazione del mostro la vediamo la vediamo in Slovacchia non in Polonia ai polacchi non gli dettero nemmeno lo spazio di essere affascinati non li consideravano degni di questo la vediamo in Polonia la vediamo negli Ustascia in Croazia di Antepavilic bisogna andare a Jasenovac il campo di sterminio in Croazia alla fine dove confina con la Bosnia e vedere cosa ha fatto la violenza nazista ma soprattutto la violenza nazionale cattolica di Antepavilic che è un capitolo secondo me drammatico contro gli ebrei prima di tutto gli zingeri rom scusate e contro i serbi e contro la chiesa ortodossa il vescovo Platone di Sarajevo fu trascinato per le strade di Sarajevo e ferrato i piedi come un cavallo cioè è la violenza Ustascia e qui noi ci troviamo davanti a persone che dicevano di difendere la causa cattolica croata perché poi le SS erano battezzate ma in fondo dovevano ripudiare il cristianesimo ma il nazional cattolicesimo no il nazional cattolicesimo no e questo ci deve molto far pensare perché nella chiesa cattolica storicamente queste due anime quella nazional cattolica e quella universalista non dico se contendono ma il papato rappresenta quell'universalista ma io sono molto contento molto gratificato di tutto quello che avete detto voi e soprattutto mi piace molto che tutti abbiate sottolineato l'espressione esagerazione perché quando l'ho trovata nei documenti vaticani perché io ho avuto la fortuna grazie Agostino di averlo detto sono 50 anni che studio queste cose ma ho avuto la fortuna di poter vedere finalmente le carte vaticane e che errore aspettare tanto tempo io questo l'ho sempre detto dice che ci sono motivi tecnici ma che errore quanto si sarebbe potuto fare la storia meglio e con più giustizia in ogni modo giustizia per la chiesa stessa bene e vedere queste carte vaticane a parte mi ha colpito perché personaggi che avevo studiato al di fuori vedere le loro carte è come vedere le lettere che scrive tua madre dopo che le hai conosciute leggerle post mortem per alcuni ma il fatto che mi ha colpito è ritrovare la parola esagerazione non dico così frequente ma mi è sembrata una chiave una chiave perché dell'acqua lo scrive gli ebrei chiacchierano ed esagerano a me dispiace parlare male ma quando uno scrive chiamando questo padre benedetto cappuccino salvatore degli ebrei invitato invitato in sinagoga quando si riapre la sinagoga nel 44 accolto da un tuono di applausi dell'acqua dice ma io non capisco perché in questo momento tutti si sono fissati con gli ebrei ma dove vivi allora qui vengo alle riflessioni di forti vengo alle riflessioni di forti era troppo esagerato quello che stava avvenendo agli ebrei era fuori dalle categorie di gente normale ci voleva la fantasia dell'esagerazione per capirlo perché non c'entrava nelle categorie delle persone e allora vediamo che un discepolo di Roncalli come dell'acqua non accetta l'esagerazione ma vediamo personaggi Agostino citava Tacchi Venturi era veramente un fascista un clerico fascista uno che aveva passato la vita a far la spola tra Pio Undici e Mussolini prendendosi gli urli di Mussolini e di Pio Dori su tutte e due perché è la forte dei mediatori ma io penso al metropolita Zeptisky metropolita di Leopoli nobile famiglia polacco-ucraina principe metropolita principe e arrivano i tedeschi e liberano Leopoli dall'occupazione sovietica e lui scrive una prima lettera di ci sovietici sono atei e poi hanno preso spazio gli ebrei durante l'occupazione sovietica sono loro eccetera ma poi dopo un mese e dopo che comprende i nazisti e comprende la violenza contro gli ebrei scrive delle parole fortissime nasconde il rabbino a casa sua insomma e sulla sua lettera in Vaticano viene annotato dal solito minutante beh gli ebrei chiacchiano e non esagerano ma anche i cattolici orientali vivono di esagerazione e allora mi sembra di trovare in questo caro Forti tu dici antisemitismo ma io trovo una forma di difesa come tu dicevi meglio perché Zeptinsky si lascia toccare certo non ha la cultura di Roncalli Roncalli con quel sentire più che cultura dice gli ebrei sono i fratelli del Signore noi dobbiamo fare qualcosa ma per me qui c'è la vicenda di tante e diverse persone nei confronti di questa esagerazione vorrei sottolineare che io non credo a me non interessa studiare solo il Vaticano non sono un vaticanista a me interessa studiare la guerra e la guerra vista attraverso questa documentazione e quelle finestre perché dal campanile non si vede la Chiesa si vede il mondo ed è un osservatorio e allora vi posso testimoniare la meraviglia drammatica delle carte Vaticane ho preso mi sono trovato tra le mani con tremore le lettere di richiesta di aiuto all'annunzio in Romania una grande figura Cassullo il quale preso in mano in queste lettere una lettera di una donna scritta in francese un'ebrea una signora con le foto delle sue bambine dice vede eccellenza queste sono le mie bambine io non parlo di me le salvi cioè c'è una documentazione immensa del dolore della guerra degli ebrei dei prigionieri di guerra e di tant'altri ecco se c'è una grande forza secondo me del tragico Pio XII e degli uomini della Santa Serie o gli uomini di chiesa è quella di essersi lasciati toccare dal dolore le soluzioni politiche le avete già detto voi ne ho scritto i silenzi la realtà è quella che è insomma lasciarsi toccare delle inquietudie nel dolore il limite non voglio parlare a lungo ho scritto un libro quindi è in fondo non riuscire a vedere il mostro del nazismo c'è ancora l'idea del nazismo dei nazisti buoni dei nazisti cattivi e dei nazisti buoni Weizsäcker che poi è stato il padre di un presidente della Repubblica Federale figura ambiguissima Mossel notava è proprio una di queste figure dei nazisti buoni cioè nazisti buoni dico tra virgolette è lui che quando la Santa Sede si decide a fare una protesta e il nunzio la porta alla Wilmstrass Weizsäcker segretario generale la prende in mano e la legge e la restituisce dice è meglio non fare stato vi conviene il nunzio scioccamente se ne va via e viene censurato e la Santa Sede lo vuole censurare pochi mesi dopo il 16 ottobre 43 Weizsäcker va da dal segretario di stato Meglione e dice noi vorremmo protestare e lui gli fa tutto un discorso e dice mi permetta di non fare stato della sua protesta e dice e dipinge a Berlino un Vaticano in fondo filonazista e a Roma fa la vittima e chiede tempo in quel momento quel 16 ottobre è forse la pagina triste perché sotto le finestre il Papa ma anche un po' sciocca della diplomazia vaticana perché il grande diplomatico Maglione si fa imbrogliare e loro hanno l'illusione è il caso di Foligno e di qualche altro diciamo figli di matrimoni misti o con matrimoni misti che vengono liberati e loro lo dice Forcella non lo dico io Enzo Forcella hanno la sensazione di essere riusciti in qualcosa ma al di là di questo del dramma di tutto questo di fronte a cui io non non ho voluto essere un magistrato c'è però un silenzio che mi ha molto colpito ed è il silenzio dopo la guerra perché l'immagine di Pio XII durante la guerra io condivido il sentire di Liliana un'immagine drammatica enigmatica contradditoria tu ci dicevi ci ricordavi la follia di prestarsi alla congiura contro Hitler la follia come però le prudenze e dall'altro dall'altro però c'è il dopoguerra e lì è secondo me il silenzio è il silenzio di fronte ai cattolici polacchi i quali dicono chiaramente l'episcopato polacco il carino all'ond insomma qui gli ebrei in Polonia sono i vincitori perché sono tornati con i comunisti è il discorso del giudeo comunismo che è vergognoso il pogrom di Chielce 50 ebrei che tornano a Chielce accusati di omicidio rituale allora e qui poi glielo dice Maritain glielo dicono tanti altri Montini lo sa ma qui compare un altro fatto e su questo concludo il sentimento di essere la vittima la Chiesa cattolica è la vittima è la vittima del comunismo e oggi questo è il punto fondamentale e questo acceca completamente la visione di questi uomini era sì perseguitata la Chiesa cattolica ma gli ebrei morti della Shoah restavano un grande punto interrogativo per Pio XII e la sua Chiesa ecco questo è un punto che mi ha fatto molto pensare anche di fronte a questa guerra attuale e per questo io ho scritto fallimento dell'umanità europea e fallimento del cristianesimo credo che la guerra in Ucraina sia un fallimento dell'Europa cioè è una responsabilità della Russia ma è anche un fallimento dell'Europa il protrarsi della guerra lo credo fermamente di cui l'Ucraina è vittima con un popolo distrutto e credo sia anche un fallimento del cristianesimo in particolare del cristianesimo ortodosso che si trova così tremendamente lacerato ma la guerra diceva un fante della prima guerra mondiale scrivendo a casa la guerra è brutta perché si finisce sotto terra e la guerra è una realtà impossibile purtroppo credevamo nel novecento di esserci liberati da questo spettro e oggi ci troviamo con questa realtà scusate se ho parlato troppo a lungo ma avete detto talmente delle cose stimolanti posso essere forti voi tutti mi ringrazio molto della vostra attenzione grazie grazie ad Andrea Riccardi grazie a professor Gabriel Forti grazie a professor Agostino Giovagnoli grazie alla senatrice Liliana Segre e grazie a voi per aver partecipato alla presentazione del libro La guerra del silenzio più dodicesimo nazismo agli ebrei editore la terza buonasera a tutti grazie 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 a tutti.